Terza gara e seconda vittoria ragazzi Dopo la debacle della domenica precedente il 6 marzo sono riuscito a vincere la mia seconda gara su tre disputate ma anche qui ragazzi ve la voglio raccontare perché c'è stato un momento che ho pensato ecco anche stavolta è andata ma andiamo con ordine e cominciamo dal principio dunque era una gara a circuito a Narni Scalo di circa 65 km circuito quasi completamente pianeggiante infatti alla fine il disidiello totale è stato di appena 300 metri quindi dicevo prevalentemente pianeggiante 6-7 giri da compiere e anche qui ragazzi all'inizio parte subito una fuga inizia ad andare via un atleta 2-3 poi qualcun altro e praticamente passato il primo giro già si era avvantaggiato un gruppetto di circa 6-7 atleti ma il vantaggio era molto risicato e ho provato a fare qualche scatto ma non era andato praticamente nulla a buon fine quindi c'era questo gruppettino con qualche secondo di vantaggio sul gruppo passa un altro giro e davanti diventano 11-12 perché altri atleti ce l'avevano fatta ad avvantaggiarsi a rientrare sui primi il distacco con il gruppo aumentava e io stavo sempre in questo benedetto gruppo che provavo ogni tanto a dare una botta però avevo altra gente dietro magari chiedevo il cambio e non me lo davano a volte non lo davo io e quindi la fuga prendeva sempre più vantaggio infatti al terzo giro ormai il vantaggio era quasi di un minuto io stavo lì nel gruppo e pensavo ecco anche stavolta Simone ti sei fatto andare via la fuga buona e ora ti ritrovi qui nel gruppo che da solo non potrei mai rientrare perché io non ho le qualità per chiudere un buco di un minuto su un gruppetto di circa 10 atleti che tirano quindi da solo proprio non ci sarebbe stato modo allora dico oh anche questa gara va puttane bisogna trovare appunto il momento buono per agganciarsi magari ad altri atleti buoni perché sapevo che in gruppo c'era ancora comunque gente di quelli che vincono le gare gente di quelli che appunto hanno le qualità per primeggiare quindi non era che solo davanti c'era gente buona ce n'era ancora tanta nel gruppo che quindi come me non vedeva l'ora di riuscire ad agguantare i fuggitivi quindi mi metto lì dico ho la paula spacca questa volta i primi buoni che partono gli vado dietro e poi do i cambi in qualche modo di entrare a costo di scoppiare quindi parte un atleta che era uno di quelli che marcavo seguito da un altro che aveva già due compagni in fuga quindi stava lì a rintuzzare tutti gli attacchi partono loro due e dico ecco questa è la volta buona da una bella fucilata nel giro di due o trecento metri riesco ad agganciarli a ruota mia ci si porta un altro atleta che quindi mi segue per rientrare su quei due e in quattro con molta fatica da parte mia infatti devo essere sincero se non era maggiormente per un elemento e anche per un altro non saremmo rientrati infatti sia io ma anche l'altra atleta abbiamo tirato sicuramente meno io cercavo di dare il mio contributo non saltavo nessun cambio però sicuramente quando tiravo io non tiravo alla stessa velocità degli altri neanche per la stessa durata perché proprio non è nelle mie caratteristiche riuscire a fare tirate lunghe e forti breve botte sì ma quando iniziano ad essere lunghe più di qualche bricino di secondi no però ho dato il mio contributo e veramente nel giro di 4-5 km siamo riusciti a riportarci nel gruppetto davanti quindi l'inseguimento è durato veramente poco in pochissimo tempo appunto 4-5 massimo 6 km quindi siamo riusciti a richiutere il gap che era praticamente ormai di un minuto quindi a quel punto rientrati iniziamo a dare i cambi regolati insieme agli altri componenti della fuga c'erano 3 atleti della stessa squadra che magari hanno tirato un pochino più degli altri quindi a quel punto dico Simone ce l'è fatta a rientrare in fuga praticamente siamo a più di metà gara dietro non si vede più nessuno e sicuramente nessuno riuscirà più a rientrare perché a quel punto davanti eravamo una quindicina di atleti tutti diciamo con buone qualità quindi era veramente impossibile che da dietro rientrasse qualcun altro anche perché non c'era una squadra organizzata pronta a sacrificare uomini per tirare quindi dico adesso Simone giocatela bene conoscevo il rettilineo d'arrivo sapevo che in volato non la sarei potuta giocare anche se era un arrivo completamente piatto quindi non propriamente adatta a me però dico adesso Simone aspettiamo gli ultimi chilometri e facciamo le cose per bene quindi arriviamo agli ultimi 3-4 chilometri che come immaginavo si mettono davanti i tre atleti della stessa squadra due a tirare per quello più veloce che come immaginavo era quello che infatti avrebbe fatto la volata quindi ragazzi mi trovo gli ultimi 3-4 chilometri in settima e ottava posizione a ruota di un'altra atleta che reputava essere molto veloce quindi poteva essere una buona ruota da sicuro in volata arriviamo agli ultimi 2 l'ultimo chilometro e mezzo dico no settima e ottava posizione è troppo tardi anche perché c'era un cavalcavia a 7-800 metri all'arrivo quindi leggera discesa curva a 90 gradi e poi c'era questo rettilineo di 400 metri col vento a favore in cui sapevo che si sarebbe andati veramente forte quindi non potevo partire in settima e ottava posizione altrimenti ciao quindi proprio prima del cavalcavia mi metto in quarta posizione quindi a ruota dell'atleta della squadra più numerosa che doveva fare la volata prendiamo il cavalcavia parte un atleta subito pronto a chiudere insieme agli altri arriviamo all'ultima curva che sono in terza posizione quindi mancano 400 metri dall'arrivo altri 50 metri ci ritroviamo praticamente io in seconda e l'altra atleta in prima a quel punto dico la volata so che è lunghissima partita da qua so che è distante ma c'è il vento a favore so da una bella botta all'inizio poi sicuramente riesco a mantenere una buona velocità è difficilissimo che in quel caso poi riescano a passarmi da dietro a meno che non mi pianto ma con il vento a favore in pianura è difficile quindi parto a 350 metri all'arrivo 52-11 in canna se avessi avuto il 55 se avessi avuto un 10 dietro a posto dell'11 sicuramente l'avrei messo faccio questa volata lunghissima infatti arriviamo a 65 km all'ora che per una volata in pianura non è proprio poco faccio questa volata molto lunga vedo che da di dietro nessuno riesce a passarmi e quindi riesco a tagliare l'arrivo senza perdere velocità con il cuore in gola ma consapevole di aver fatto appunto una bella volata anche con la testa perché se avessi aspettato e quindi avessi perso quella posizione avessi perso l'attimo per partire e qualcun altro fosse partito prima di me allora sarebbe stato più complicato perché su un arrivo in salita è facile rimontare perché si riesce a fare molta più velocità rispetto agli altri se si ha la gamba però su un arrivo piatto capite che io ho girato quasi a 110 pedalata al minuto per più di 300 metri non è che potevo girare a 120 per andare a 70 all'ora non ce l'avrei fatta quindi sono stato furbo mi ha detto bene che sono partito prima ho anticipato sono riuscito a mantenere quel picco di velocità per molto tempo cosa che non avrei potuto fare non sarei riuscito a rimontare una persona che sarebbe partita prima di me quindi volata azzeccata sono riuscito a vincere questa gara che ragazzi veramente è stato difficile perché sì la prima vittoria è venuta così per caso vincere è difficile ma appunto quando meno te l'aspetti è più facile poi c'è stata quella gara in cui sono arrivato 15esimo che i primi se ne erano andati che quindi non avevo fatto una gran prestazione quindi un po' il morale era calato questa gara era un modo per convincermi che effettivamente la gamba c'è che posso continuare a far bene che la prima vittoria non era stata un caso e quindi per me era importantissimo riuscire a vincere specialmente per il morale specialmente per convincermi delle mie possibilità quindi quando stavamo nei primi due o tre giri che avevo visto la fuga andare via mi ero decisamente demoralizzato però ho pensato dai devo tirare fuori le palle devo riuscire a concentrarmi a non farmi scappare altre occasioni quindi quando sono riuscito a rientrare in fuga avevo acquistato morale sapevo che poi all'arrivo potevo fare una grande volata mi sono gestito bene ho usato la tattica giusta e quindi sono stato veramente felicissimo all'arrivo molto di più della prima vittoria sono stato molto felice di aver vinto adesso quindi le gare ovviamente non finiscono qui mi aspetta una gran fondo domenica prossima in cui spero di far bene anche se per esattezza farò il percorso meglio di fondo quindi sono circa 80 km quasi 1500 km di livello quindi percorso totalmente diverso dalle gare a circuito che ho vinto ora sarà una gara molto più difficile con molta più salita sarà molto più difficile fare il risultato ma ce la metterò tutta darò sempre il massimo convinto che comunque se mi ci metto se azzecco la tattica giusta posso dire la mia quindi ragazzi il morale di questa vittoria è non demordere mai non arrendersi mai anche se la gara si mette male non mollare perché la competizione finisce soltanto quando il primo taglia la linea del traguardo quindi mai arrendersi spingere sempre forte fino alla fine per oggi è tutto ragazzi vi terrò aggiornati come al solito vi invito a mettere un bel like e a iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao ciao